ecco però spostati di via lì destra via destra via persin X, Dex via attenzione 40 destri subito tornante sinistro per destra via 20 chiude poco e sinistra 4 più in attenzione destra meno meno via lunga chiude 3 al palo e ritarda chiude tornante destro per sinistra 3 meno destra via attenzione sinistra via 30 chiude 4 meno smusa e per attenzione ritarda destra 4 meno meno smusa intornante sinistro più secco apre via 50 attenzione destra 4 più e affinerà il tornante destro più secco brutto sbagliato per sinistra via lunga e agli alberi attenzione destra 4 più subito tornante sinistro secco subito subito 70 a rail attenzione tornante destro no 150 sinistra 4 meno meno brutta secca smusa 100 sinistra 4 meno secca 70 attenzione destra via doppia 40 chiude 4 lunga smusa come mai la partita perché è fredda le gomme si è poi perché frenando tende a prendere ci scivolo ma come mai la partenza si sbieca perché si vede che pende leggermente noi pattiniamo a leva giù giustamente puoi andare grazie grazie